Ben tornati su CiperTV, oggi è Santo Stefano, quindi facciamo gli auguri al nostro producer Stefano, che sta dall'altra parte della videocamera. I vuoi di oggi? 3 round, fatti con 20 wall ball, 30 sumo deadlift high pull, 30 box jump, 30 push press e 30 calories low. E mi raccomando, andateci piano col panettone, soprattutto con gli avanzi di ieri. Ciao, a domani!